Allora lei non mi ha visto Ma lei non mi ha visto che ho la precedenza Ma qua Documenti Vediamo un po' Cosa le serve? Patente Perché lei mi ha tagliato la strada Mi scusi io la dovevo vedere E cosa avrei dovuto fare? Bisogna evitare l'incidente Ma io? Ma anche lei lo deve evitare Ma anche lei lo deve evitare Ma dove è il lampeggiante? Non c'è nessun lampeggiante Mi scusi Ma non è acceso È acceso è spento Ma che c'è? Ma mi scusi è una macchina come l'altra Dammi la carticipazione Ma dammi l'idea del lei per favore Dammi l'idea del lei scusi Grazie 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 Allora Anche se lei ha ragione Mi scusi ma lei svoltava Ma anche dovesse avere ragione Ma io ho ragione Bisogna evitare gli incidenti lo stesso Anche se uno ha ragione Mi scusi ma io l'ho evitato Però lo eviti anche lei Ma ha continuato Suona Ma ho suonato perché mi stava venendo addosso Ma mi stava venendo addosso Però andando a una velocità adeguata Ma che velocità Ma che velocità Non c'è problema Sì va bene Ma lei mi ha tagliato la strada Ma c'è bisogno di fare così Ma mi scusi mi ha tagliato la strada Mi sono anche spaventato Cioè Ma non so se si rende conto Cosa devo fare? Ho suonato perché Mi stava tagliando la strada Per avvertirla Devo usare la prudenza Mi sono fermato infatti Ma subito dopo Però ho continuato Ma mi sono fermato Cosa gesticola fare? Ma come cosa gesticola? Ma io sono in macchina Ma io posso Non posso gesticolare in macchina Mi scusi Cioè Cos'è? Posso fermare la macchina E controllare dopo Ma sì ma può Però le dico Lei mi ha tagliato la strada Allora Cioè Ma no Siamo bocciato Mi scusi ma lei Va bene Io ho evitato Lei mi ha tagliato la strada Io ho evitato l'incidente Lei ha il lampeggiante Io no Va bene Mi ha fermato Ok Va bene Buona giornata